Ovviamente per favore createmi un condono bello e prendete una manciata di condono. La sposa praticamente sempre andava a vivere a casa dello sposo. E' una specie di pane divitato, dolce, con tutti gli arricchimenti sopra. Tutto a posto e adesso con un applauso incontriamo e facciamo un applauso agli sposi per invitarli ad accomodarsi al tavolo. Applauso! Adipuntare il persone che avevano di разные comuni e che avevano già, Facciamo un gioco, Pietro, piano, vado, vi facciamo domande, vi facciamo domande e voi dovete rispondere, lei, siete per l'idea oppure tu, no? Vado a servizio, vado a servizio, voi uscite, voi lasci, voi non uscite, voi non uscite, voi non ci sono intensità, ma vi facciamo domande e vi faccio domande e vi faccio domande e vi faccio domande. e l'unico di tutta la vita e l'unico di tutti e l'unico di questo grazie